E' più facile, e sempre va a Pondia che c'è un perno, c'è un perno. E' più facile, e sempre va a Pondia. 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 E sempre va a Pondia. E' più facile, e sempre va a Pondia. E' più facile, e sempre va a Pondia. E' più facile, e sempre va a Pondia. E sempre va a Pondia. E' più facile, 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 e sempre va a Pondia. E' più facile. E' un po' proprio relatore. E' un po' di essere assomiguita paga. E' un po' di questo filmato. E' un po' l'articolo.